Verso la bretella ferroviaria, avviata la progettazione per il collegamento tra ferrovia e aeroporto di Birgi, a Palermo si è tenuta una riunione convocata dall'assessore Falcone. Da Trapani si torna a volare per la Francia, la compagnia aerea Ryanair ha già messo in vendita sul proprio sito il volo Trapani-Bordome-Rignac, operativo dal 1 giugno. Intanto Alba Star si aggiudica le rotte in continuità Ancona, Perugia e Trieste. Tempo di quaresima, oggi mercoledì delle ceneri, si aprono ufficialmente i riti quaresimali, a Trapani venerdì si apriranno le scimute. Buonasera e bentrovati con l'appuntamento serale con il Tg Sud. Apriamo parlando dell'avviata progettazione per il collegamento tra la ferrovia e l'aeroporto di Birgi, a Palermo si è tenuta una riunione convocata dall'assessore Falcone che ha parlato di una vera e propria svolta per la Sicilia occidentale. Dovrà vedere la luce entro i prossimi tre anni la nuova stazione ferroviaria dell'aeroporto di Trapani-Birgi. Questo l'esito del tavolo convocato a Palermo dall'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone con i tecnici di rete ferroviaria italiana, i sindaci e i rappresentanti politici del Trapanese. Dopo aver valutato attentamente tutte le alternative progettuali prospettate da RFI, ha fatto sapere l'esponente del governo musumeci, il tavolo ha espresso un'indicazione unanime che ricalca lo schema già attuato dalla regione a Catania, dove è stato già collegato l'aeroporto Fontana Rossa alla ferrovia. Praticamente si punta a realizzare una fermata meno onerosa dal punto di vista infrastrutturale rispetto a una stazione che sia ubicata a poca distanza dall'aerostazione e collegata attraverso bus o mezzi veloci che faranno da Spola. Naturalmente la fermata ferroviaria di Birge sarà connessa alle principali direttrici della viabilità locale. Il governo musumeci, ha rimarcato l'assessore Falcone, punta a mettere così in campo una reale programmazione degli investimenti in infrastrutture ancorata alle esigenze e alle potenzialità di ciascun territorio. Presenti al tavolo voluto da Falcone, gli assessori regionali Mimmo Turano e Toni Scilla, la deputata regionale Eleonora Locurto e i sindaci e i delegati delle amministrazioni di Trapani, Marasala, Erice, Valderice e Paceco, il presidente di Arigest, Ombra e il dirigente di Rete Ferroviaria Italiana, Maurizio Infantino. Per realizzare la fermata Birge, ha sottolineato l'assessore Falcone, la regione attingerà i fondi disponibili nell'ambito del PNRR, una volta che Rete Ferroviaria Italiana avrà ultimato il progetto nei prossimi mesi, il cui valore è stimato in 40 milioni di euro. Per altro verso, la regione studierà un piano di incremento dei servizi ferroviari nel Trapanese, che entrerà in vigore una volta ultimato il ripristino della linea Trapani-Palermo-Via Milo, i cui lavori stanno finalmente per partire dopo quasi un decennio di chiusura della tratta. Malgrado, infatti, la rete ferroviaria sia stata in questi anni mutilata, la ferrovia Palermo-Caservetrano-Trapani ha mantenuto buoni livelli di utenza, che compiranno il definitivo salto di qualità con la riapertura della via Milo e il collegamento dell'aeroporto alla ferrovia. Per Trapani-Birigi, ha concluso l'assessore alle infrastrutture, la nuova fermata treni sarà una volta per tutta la Sicilia occidentale, portando lo scalo sullo stesso piano degli altri aeroporti regionali più strategici in Italia. L'aeroporto Vincenzo Florio si rifà il look e prende il volo. Si avvia il progetto di riqualificazione dell'aerostazione e si inaugura a giugno il primo volo estero per la Francia. Torna ad essere collegato con nuove rotte estere l'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi. Dopo sette anni dall'ultimo volo si inaugurerà dal primo giugno la tratta da per Bordeaux-Marignac. Ma non è l'unica novità per la stagione estiva, sono state già infatti programmate le rotte a partire dal 27 marzo 2022 verso ancora Perugia e Trieste. Nella compagnia Alba star già attiva Birgi dal 2020 con i collegamenti verso Brindisi, Napoli e Parma. Il primo volo dell'aeroporto di Trapani-Birgi per Bordeaux rappresenta di fatto il primo vero passo di apertura al mercato francese. Il presidente Salvatore Ombra manifesta una duplice soddisfazione riguardo alla giudicazione del nuovo bando dell'Enac per le rotte in continuità territoriale di Ancona, Perugia e Trieste. Sia perché la compagnia aerea aggiudicataria Alba star ha dimostrato di essere un vettore affidabile ed apprezzato dai passeggeri, sia perché con la sua presenza il territorio non perde tre importanti tratte agevolate. E sebbene sia ancora in attesa di ricevere dalla compagnia la programmazione dei voli, ci si aspica di raccogliere i frutti di una produttiva presenza turistica nel territorio. E potrebbe essere segno di un buon preludio per una florida stagione turistica anche il nuovo look dell'aeroporto di Birgi che l'Arges sta avviando con la società Engie Servizi S.P.A. Esempio di un ottimo partenariato tra pubblico e privato per la progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione elettrici e di climatizzazione dei terminal. Profondo entusiasmo anche dal presidente di Arges Salvatore Ombra che nella riqualificazione dell'aeroporto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico prevede una diminuzione dei consumi di energia elettrica del 24% all'anno e un taglio delle emissioni di CO2 di 400. Oggi mercoledì delle ceneri si apre ufficialmente la quaresima e a Trapani è tempo di scinnute, servizio di Mario Torrente. Venerdì 4 marzo, primo venerdì di quaresima, inizieranno le scinnute dei gruppi dei misteri. Si partirà con il gruppo della separazione del ceto degli orefici per poi continuare fino alla vigilia della settimana santa. Il programma dei riti quaresimali prevede l'esecuzione delle bande musicali a partire dalle ore 18.15 a Piazzetta Purgatorio. Il gruppo che effettuerà la scinnuta verrà spostato davanti all'altare principale della chiesa dove alle ore 19 i presenti ascolteranno una breve scheda storico-artista. A cura della storica dell'arte Lina Novara che ne racconterà origine, valore artistico, curiosità. Quindi un commento spirituale a cura del rettore Don Genovese e il momento di preghiera curato e animato dai ceti. L'unico rito che avrà uno spostamento orario sarà quello del gruppo dell'ascesa al Calvario che avrà inizio alle ore 19.45 per permettere la celebrazione alle ore 18.25 marzo prossimo della santa messa presieduta dal vescovo in cattedrale per il cinquantesimo anniversario di sacerdozio di Monsignor Gaspari Gruppuso, Monsignor Bito Filippi e Don Biagio Grillo. L'ingresso nella chiesa del Purgatorio sarà contingentato e ad ogni scennuta potranno partecipare fino a un massimo di 60 persone con elenco definito dal ceto che cure il gruppo che effettua la scennuta. Nei giorni delle scennute i fedeli potranno effettuare visite devozionali durante tutto l'arco della giornata. La chiesa rimarrà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 17.30. Per evitare assembramenti ed eccessiva confusione nella chiesa delle anime sante del Purgatorio il calendario delle scennute è stato spalmato per tutta la settimana dal lunedì al venerdì con ogni gruppo che avrà una propria giornata in modo da evitare eccessivo affollamento all'interno della chiesa. Dopo la prima scennuta di venerdì i riti quaresimali torneranno lunedì 7 marzo con la lavanda dei piedi, martedì con Gesù nell'orto dei Gezzemani, mercoledì con l'arresto e venerdì con la caduta al Cedron e così via fino alle ultime scennute prima della settimana santa, ovvero martedì 5 aprile con la madre pietà dei massari, mercoledì 6 aprile con la madre pietà del popolo e venerdì 8 aprile con la dolorata. Andiamo avanti con le notizie. Installata una targa commemorativa ed esplicativa sotto la corona che ricorda l'imperatore Carlo V presente nel palazzo ad angolo tra le vie Barone Seripiepoli e Carreca nel centro storico di Trapani. Vediamo. La corona ricorda la visita di Carlo V a Trapani nel 1535 e si trova nel prospetto dell'ex palazzo Chiaramonte dove soggiornò il sovrano. Come già fatto nei mesi scorsi per la targa di Portossuna, l'iniziativa è partita dall'ex comandante della Polizia Penitenziaria Giuseppe Romano ed è stata sponsorizzata dalla Finirete di Luigi Fasoni. Nella targa c'è anche un QR code che rimanda ad un approfondimento della storia sulla pagina Facebook Trapani Invittissima curata dal ricercatore storico Salvatore Accardi. L'iniziativa nasce intanto dall'esigenza sentita da alcuni cittadini appassionati di storia di valorizzare alcuni piccoli tesori che abbiamo a Trapani e dei quali pochi conoscono l'esistenza. Uno di questi è proprio la testa di Carlo V che è posta ad angolo in questo palazzo che fu di Chiaramonte e molti trapanesi sconoscevano l'esistenza tranne quelli proprio molto anziani. E allora quindi noi abbiamo avuto il desiderio di portare a conoscenza non solo dei trapanesi ma anche dei turisti quando vengono a Trapani di installare una targa esplicativa che spiegasse comunque succintamente la storia e del perché questa effigia marmorea fu posta in questo palazzo. Dopo la tabella si punta adesso ad illuminare la corona. Tra alcuni giorni dovrebbe arrivare questo faretto proiettore che proietta fino a 10 metri da installare sopra il lambioncino comunale per valorizzare ancora di più questo monumento nelle ore serali. Carlo V è un grosso personaggio della storia che forse non è molto studiato nelle scuole. Carlo V tornò da Tunisi vittorioso alla battaglia con gli ottomani e si fermò a Trapani per due settimane. Trapani sempre posta in posizione strategica chiaramente fu definita da Carlo V la chiave del regno. Carlo V venne ospitato in questo palazzo per due settimane concedendo alcuni benefici alla città e disponendo che venisse ulteriormente fortificata. Noi non dobbiamo dimenticare che Carlo V venne, secondo le croniche storie, liberò 20.000 schiavi cristiani. Il numero può sembrare eccessivo ma solo nella fortezza di Tunisi erano stipati, letteralmente stipati, 7.000 schiavi cristiani. Quindi il numero più o meno potrebbe essere quello. Con Carlo V Trapani prese anche un nome particolare che è rimasto famoso nella storia. Sì, prese il nome dei Trapani in vittissima e i trapanesi penso che allora furono euforici di tutte queste concessioni, di questa tra virgolette soddisfazione che l'imperatore diede alla città e quindi vollero ricordare questo momento con questa scultura posta nel palazzo dove lui soggiornò. Controlli con telecamere e fototrappole. A Paceco 10 persone sanzionate per l'abbandono indiscriminato di rifiuti. Vediamo. 10 sanzioni per un importo complessivo di 3.250 euro sono state notificate da altrettanti cittadini, tre Pacecoti e sette residenti in comuni vicini, responsabili di aver abbandonato rifiuti o di averli conferiti in maniera irregolare nella differenziata. Si tratta di episodi avvenuti il mese scorso presso le isole ecologiche di Paceco e di Nubia, documentati dagli impianti di videosorveglianza attivati dal comune in vari punti strategici. I trasgressori sono stati individuati dalla Polizia Municipale e sanzionati per violazioni alle norme che regolano il corretto conferimento dei rifiuti. In particolare sono stati notificati 5 verbali da 600 euro ciascuno per abbandono dei rifiuti ed altri 5 verbali da 50 euro per conferimento di rifiuti non conforme. Ci auguriamo, affermano il Sindaco Giuseppe Scarcella e l'assessore Giuseppe Ortisi, che questa notizia abbia un effetto deterrente per evitare che i comportamenti scorretti di poche persone compromettono i buoni risultati raggiunti con la raccolta differenziata, grazie all'impegno lodevole della stragrande maggioranza dei cittadini di Paceco. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo hanno operato una serie di verifiche per vigilare sul rispetto delle misure anti-Covid e la sicurezza negli ambienti di lavoro e servizio. Nelle ultime quattro settimane i carabinieri del NAS di Palermo, con il supporto delle parti territoriali, comandi provinciali e compagnie, hanno attivato una serie di controlli presso farmacie, parafarmacie e laboratori di analisi nelle province di Trapani, Palermo ed Agrigento. Nel corso del servizio sono state ispezionate 56 strutture per verificare il rispetto delle normative per il contrasto al virus Covid-19 e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Al termine dei controlli, due laboratori di analisi della provincia di Trapani, uno della provincia di Palermo e uno nell'Agrigentino ed ancora tre farmacie nel Trapanese, quattro nel Palermitano e una in provincia di Agrigento, sono stati oggetto di sanzioni amministrative e di segnalazioni alle rispettive aziende sanitarie provinciali. Ai laboratori sono stati contestati la non corretta identificazione e registrazione nella piattaforma informatica regionale dei dati delle persone sottoposte a screening, la mancata adozione di idoni dispositivi di protezione individuale durante l'esecuzione dei test antigenici rapidi per la rilelazione dell'antigene SARS-CoV-2. Le farmacie e parafarmacie sono state sanzionate per avere sottoposto dei minori alla somministrazione di test antigenici rapidi, senza avere fatto preventivamente sottoscrivere il consenso informato ai genitori. E ancora, non avere assicurato la somministrazione dei test antigenici secondo le modalità previste, avere dispensato farmaci con obbligo di presentazione di ricetta a pazienti sprovvisti della prescrizione medica, l'omessa a detenzione di farmaci medicinali obbligatori, infine la violazione dei doveri di custodia di farmaci ad azione stupefacente che sono stati posti sotto sequestro amministrativo. Adesso ci spostiamo ad Erice, ecco il primo regolamento comunale sulle antenne della provincia. Vediamo di che si tratta. La questione calda delle antenne presenti all'ingresso di Erice inizia ad imboccare una possibile strada verso la sua soluzione. La prima commissione consigliare permanente affari generali, bilancio, regolamenti e ricina, ha infatti prodotto, dopo lungo iter di raccolta, analisi e verifica dei dati trasmessi da ARPA Sicilia e SUAP dell'Unione dei Comuni Elimo e Ricini, il primo regolamento comunale per l'installazione degli impianti di radio telecomunicazione, telefonia mobile e assimilabili. La commissione, preseduta da Alessandro Barracco, del Movimento 5 Stelle, e composta da Bruna Arceri Cives, Michele Cavarretta Indipendente, Antonio Giuseppe Agliastro e Antonino Simonto del PD, ha lavorato a stretto contatto con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che ha fornito dati sul censimento degli impianti e sulle campagne di misurazione dei campi elettromagnetici fatte negli ultimi anni, incrociandole con le concessioni rilasciate dallo sportello unico delle attività produttive. Il lavoro si è concretizzato, oltre che nel regolamento, anche in un registro delle antenne e in una mappa GIS delle localizzazioni degli impianti, che è stata curata dal consigliere Barracco e che verrà pubblicata sul portale web del Comune di Erice. La documentazione sarà accessibile a tutti i cittadini dal proprio smartphone o computer. Il regolamento comunale, tra le altre cose, prevede l'obbligo della delocalizzazione delle antenne tristemente note presenti all'interno del centro storico, in zone appositamente individuate all'esterno delle mura e distanti dalle aree urbanizzate. A tal fine, una prima localizzazione è stata operata dalla variante generale al piano regolatore generale, seppur con alcune criticità che dovranno, in un secondo momento, essere superate. La parola ora passa al Consiglio Comunale, che dovrà approvare il regolamento nella prossima seduta di Consiglio Comunale. Prima di chiudere, un'ultima notizia di sport. Sconfitta esterna per il Trapani, che esce dal Giovanni Morra di Vallo della Lucania senza alcun punto. La partita contro la capolista Gelbison, valevole come recupero della sedicesima giornata, è finita infatti 3-1 per i padroni di casa. Dopo un buon primo tempo in cui il Trapani ha giocato a viso aperto la sua partita, nella ripresa Granata, complice anche la sfortuna, subiscono in 8 minuti due gol. Nel primo complice una deviazione di Galfano, la seconda rete invece di Gagliardi. I Granata reagiscono con la rete di Antezza, sprecano qualche occasione, ma nel finale la Gelbison chiude la gara con la rete di Gonzales. Finisce 3-1 il prossimo impegno per il Trapani, domenica 6 marzo al Provinciale contro la San Cataldese. Per gli appuntamenti su Telesud, questa sera alle 21 e in replica alle 23, riproporremo il Res Pubblica Sicilia Chiama Europa, ospite del direttore Nicola Baldarotta, Sarato Nisci, l'assessore regionale all'agricoltura e pesca mediterranea. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.